Confermata la sospensione per un anno dell'edizione classica del Carnevale di Sant'Egidio, si è deciso però di far continuare la tradizione. Beh sì, oggi siamo qui a organizzare questo evento delle giornate del 25 e il 26 febbraio 2017 per il Carnevale dei Bambini, dove come si è ben saputo quest'anno abbiamo deciso di sospendere l'attività del Carnevale con la sfilata dei carri, ma di salvaguardare la componente più importante che è quella dei bambini e delle famiglie, loro meritano il divertimento più assoluto. Quindi in questi due pomeriggi li faremo divertire in piazza Umberto I qui a Sant'Egidio, dandogli tutto il servizio possibile al loro rivolto. Qual è il programma dell'edizione dei bambini di quest'anno? Sì, sarà il Carnevale sotto forma di circo con animazione appunto con giochi allegorici, con intrattenimenti, con qualche animale che li farà compagnia e soprattutto spettacoli di magia per intrattenere appunto i bambini. Tra l'altro l'edizione dei bambini del Carnevale è anche la prima attività del rinnovato consiglio direttivo della Prologue di Sant'Egidio della Vibra. Sì, colgo questa occasione per ringraziare logicamente soci e cittadinanza per questa possibilità. Il direttivo si è insedato il 20 dicembre 2016 proprio a fine anno e a quel punto un gruppo di amici ha deciso di prendersi questa responsabilità ben sapendo che il primo ostacolo era questo qui del Carnevale, di organizzare la manifestazione carnevalesca con i carri. A quel punto abbiamo fatto il possibile, quello che era nelle nostre competenze. La neve che a gennaio ha colpito tutta la zona, la nostra zona, ha costretto anche chi era in dovere di farlo, chi si era organizzato per farlo, di fare qualche passo indietro. A quel punto, per questo motivo e per tanti altri che logicamente fanno da contorno a questo, abbiamo deciso di fare un passo indietro anche noi rispettando appunto le persone che ci circondavano. Da questa cosa voglio, a nome di tutto il direttivo, che sia un punto di inizio, di ritorno a fare certe cose che andavano fatte qualche anno fa, nel senso che abbiamo ristabilito una sede alla Proloco dopo tanti anni, vogliamo che sia un punto di incontro tra attività commerciali, cittadinanza, diventare uno sportello di aiuto proprio al cittadino. e soprattutto la componente più importante è quella contabile, che se ogni conto sta a posto si riesce a fare tante cose migliori. che si riescono a fare.